Stiamo andando online, ok? Allora, salve a tutti, ben ritrovati. Quest'oggi siamo al nono appuntamento di questo lungo, lunga serie di seminari della nostra rassegna itinerante, riflessioni sul pensare e sull'agire, la settima edizione, che è stata un'edizione devo dire piuttosto ricca, con 11 appuntamenti, ci state sopportando da un poco, a dire la verità. È giunta quest'oggi la volta di un nostro collega, di un nostro amico delle scuole superiori, come era già accaduto con Dolores Merico, con la professoressa Merico, oggi riferirà il professore Stefano Marra, con una relazione dal titolo, dal dialogo socratico alle professioni d'aiuto, il dibattito nella polis, come vedete siamo pienamente nell'ambito, nella cornice che ci siamo dati, che è quella dell'educazione civica, e anche con un taglio molto particolare, perché il professore ci permetterà di vedere quali sono le possibilità che sono battute dalla filosofia, con le varie strade, mi piace ricordare che oltre a essere un docente del capice di maglie, il professore insegna ovviamente storia e filosofia, il professore Marra è anche un formatore, un supervisore del coordinamento nazionale per cancer professionisti, quindi ha uno spaccato di vita che gli permette, come posso dire, un'azione in extenso, insomma, riguarda la filosofia e quindi lo cogliamo questa, cogliamo questa opportunità per poterlo ascoltare e per poter mettere a frutto la sua esperienza. Io non vi rubo altro tempo, passo subito la parola all'amico Stefano e vi ricordo che al termine della sua relazione si apriranno come al solito le domande. A te la parola Stefano, ben trovato, benvenuto. Grazie, grazie a professore Cipaci, grazie all'università, intanto come docente di scuola superiore, di secondaria e secondo grado, per questa iniziativa che l'università ogni anno promuove, è un'occasione formativa per i nostri ragazzi, quindi grazie di questa opportunità. Poi a livello personale, perché, come posso dire, potermi esprimere, dire la mia, dare il mio piccolo contributo in un contesto in cui persone ben più titolate di me hanno relazionato, questo per me può essere soltanto veramente un onore, quindi grazie anche a livello personale. Grazie a te, grazie a te. Allora, di che cosa ci occupiamo oggi? Ho cercato di impostare il discorso in una modalità che possa essere il più possibile schematizzata dal momento che trattiamo degli argomenti che potrebbero sembrare a prima vista anche abbastanza dislocati in tempi in ambiti differenti, ma che in realtà possono essere congiunti da una sottile linea rossa. Per semplificare il quanto ho da proporre, proietterò alcune slide, provvedo adesso a farlo in modo da aiutare appunto chi è in distanza. Un secondo soltanto, le carichiamo ed eccole. se si vedono dovrebbero apparire. Appariranno subitissimo, adesso le inviamo. Ok. Ok. Allora, per prima cosa vorrei fare un collegamento, un link per utilizzare i linguaggi odierni, dalla città di oggi, ciò che noi viviamo adesso, alla polis greca. Viviamo nella società dell'informazione, sicuramente in un contesto globale, dominato anche da una informazione che è rapidissima. E tuttora c'è un dibattito particolare sulla cittadinanza e sulla partecipazione non per nulla, proprio quest'anno, all'interno della scuola italiana, è ritornata questa materia educazione civica. Gli elementi di dibattito riguardano alcuni aspetti, in particolare c'è chi si chiede se possa esserci lo spaggio per una reale democrazia o se questa non possa essere inficiata in qualche modo da forme di plutocrazia e tecnocrazia. La stessa comunicazione, si sa, è una forma di potere, quindi chi riesca a manipolare la comunicazione potrebbe in qualche modo gestire oggi come oggi enormi masse di persone e nel giro di pochissimo tempo. Dal punto di vista didattico, la scuola già da ormai una quindicina d'anni con una raccomandazione del Consiglio Europeo d'Europa ha introdotto una competenza ritenuta fondamentale, detta imparare ad imparare. Potremmo tradurla come una competenza di esercizio di un approccio critico alle fonti di informazione. Ecco, questo potrebbe essere veramente un elemento fondamentale per poter evitare manipolazioni mediatiche che sempre sono in agguato e per poter permettere al cittadino di poter conoscere e quindi di esprimersi. Le informazioni in quantità infatti vanno domate, potremmo dire. D'altra parte c'è un secondo problema speculare a questo che è quello della solitudine. Paradossalmente laddove i mezzi di comunicazione un po' alterano quasi lo spazio-tempo, rendendoci più vicini. All'opposto rischiamo la solitudine, ma questo non tanto perché adesso viviamo con delle restrizioni dovute alla pandemia, quanto piuttosto per il fatto che il singolo rischia di chiudersi davanti al suo dispositivo mobile e perdere il contatto anche fisico con il resto del mondo e soprattutto, andando più a fondo, perché all'interno di una società massificata si può perdere il volto, lo sguardo dell'altro e quindi la relazione interpersonale autentica. La polis non era così. La polis era, come sappiamo, la città o città-stato che aveva una dimensione comunitaria che permetteva il confronto, era caratterizzata da questo, non necessariamente, non soltanto nell'Atene Democratica, anche in città che avessero costituzioni completamente differenti, quantomeno si poteva conoscere chi conosce di persona, chi comandava per così dire. Ma d'altra parte non è che fosse sempre così idilliaco, quell'esperienza non è stata sempre idilliaca. Ora, il titolo della relazione di oggi, che cosa ha da suggerire? Lo pongo in forma di domanda adesso, il dialogo socratico per rendere l'uomo oggi protagonista della cittadinanza, dell'esercizio della cittadinanza. Se anche online vedete questa seconda slide, leggiamo velocemente. Dovresti mandarla avanti, dovresti mandarla avanti perché non va avanti la slide. C'è una di Platone adesso, vedete? No, vedo sempre la stessa cover iniziale, la prima. Ah, quindi non avete visto altri elementi, ok. No, adesso è cambiata, adesso vediamo Platone. Ok, le faremo manualmente. Ok, aspetta. L'importante è che appunto si vedano. Allora, adesso... Mi spiego per la condivisione però, eh. Riprovo. Sì. Ok, dialogo socratico e polis. Questa si vede? Adesso dovrebbe vedersi. Sì, si vede. Allora, qua è Platone. Platone sappiamo di formazione di provenienza aristocratica, non è chiamasse tanto il governo democratico l'impiego della democrazia come forma di governo. Qui c'è un dialogo nella Repubblica in cui Socrate sta parlando della capacità all'interno dei contesti democratici di qualcuno di impiegare un dialogo non autentico, forme di comunicazione inautentiche, per manipolare le masse fondamentalmente. E chiede Socrate, ma non sono proprio quelli che parlano così più grandi sofisti, capaci di educare nel modo più compiuto e di plasmare come vogliono, giovani, vecchi, uomini e donne? E quando mai, chiese a Di Manto, quando, risposi, molte persone che siedono tutte assieme in assemblea o nei tribunali o in qualche altra adunanza di popolo, in parte biasimano, in parte approvano con molto rumore ciò che viene detto o fatto, in entrambi i casi in modo esagerato, gridando e pestando i piedi e oltre a loro le rocce e il luogo in cui si trovano raddoppiano con l'eco il rumore del biasimo o della lode. In una situazione del genere, come si suol dire, quale cuore pensi che abbia il giovane o quale educazione privata resisterà in lui senza essere sommersa da un tale biasimo, una tale lode e trascinata dalla corrente dovunque la porti, concordando pienamente con queste persone su ciò che è bello e brutto e acquistandone abitudini e carattere? Grazie. Ora ripeto, capiamo la contestualizzazione di Platone, la sua posizione, la sua visione, ma qui quello che a noi interessa, se adesso si vede questa ulteriore slide con delle immagini semplicemente. Perfetto, si vede. Abbiamo in questo testo, tra i vari testi in cui Platone muove delle critiche nei confronti della democrazia, vediamo emergere un problema che è etico-politico, proprio di gestione, qual è la gestione opportuna per la città, un problema socio-educativo, qual è il messaggio che viene dato ai giovani, un messaggio che favorisce la loro espressione o che arriva alla loro manipolazione, è un problema relazionale comunicativo. Platone denuncia il rischio che in una comunicazione diffusa inautentica, per bocca di Socrates denuncia, che c'è questo rischio che alla fine prevalga chi riesca a fare la voce più forte. Di conseguenza, di conseguenza, entriamo un attimo a vedere invece qual è l'alternativa. L'alternativa che Platone aveva appreso era il dialogo del maestro, di Socrates, lo stile dell'allevatrice del maestro. Noi sappiamo che il dialogo, la struttura del dialogo socratico è divisa così didatticamente, schematicamente, potremmo dire, in due parti, una fase, l'ironia che fungeva da parts destruence, con cui aiutava l'interlocutore a comprendere le contraddizioni delle proprie posizioni di partenza, e una seconda fase, la parts construence, la maieutica, per aiutare a partorire la verità, con una riflessione partecipata, in modo che l'interlocutore, pur partendo, questo è un punto importante, dalla propria prospettiva soggettiva, potesse giungere ad una verità, ma attenzione, non si intende una verità prefabbricata, Socrate sapeva di non sapere, ce l'ha insegnato, quindi non stava erogando corsi per dare attestati, non era certo un sapientissimo, non si riteneva tale Socrate, ma una verità intesa come ricerca, nella crescita interpersonale. E questo Socrate lo ha fatto con tutti, era disposto a dialogare con la persona colta, così come con lo schiavo, con l'amico, come con l'oppositore. Chiunque, insomma, era degno del dialogo. l'ho citato, lo conosciamo, no? Il dialogo nel Menone, Socrate dialoga con lo schiavo dell'interlocutore. E quando ascolta, sappiamo, no? Socrate, qua Platone sta facendo riferimento alla sua teoria dell'anamnesi, eccetera, eccetera, quindi anche qui il dialogo va compreso nel suo contesto, questo passo che sto estrapolando va compreso nel suo contesto, tuttavia quello che a noi qui interessa è notare lo stile di Socrate e la profonda fiducia nell'altro in quanto persona. Dice Socrate a Menone, vedi Menone che io non gli insegno nulla allo schiavo, già avevano sentito in parte lo schiavo, cimentarsi con questioni di matematica e geometria. Ma su tutto pongo solo domande. Sta a vedere come egli via via rammenti esattamente come si deve. Poi si rivolge allo schiavo e tu dimmi e gli pone ulteriori domande. Qui lo schiavo di nuovo tornerà a rispondere e alla fine Socrate si rivolge di nuovo nei confronti di Menone. Che te ne sembra Menone? Nelle sue risposte ha mai espresso una sola opinione che non fosse sua propria? E Menone effettivamente dice no, egli ha tirato fuori tutto da sé. Oggi, oggi, da una parte abbiamo persone che hanno e manifestano e a volte non lo manifestano, ma dentro è latente, il bisogno di essere ascoltate. Magari persone che si ritengono come quello schiavo abituate a non avere nulla da esprimere perché nessuno le ritiene degne di avere qualcosa da esprimere. Oggi abbiamo persone, quindi, che hanno il bisogno di essere ritenute degne. Oggi, a maggior ragione, in un contesto che vede un distanziamento sociale, c'è il bisogno di potersi incontrare per comunicare autenticamente. Certo, poi saremo responsabili e troveremo i modi e i tempi adeguati per farlo. Il punto è che il bisogno c'è per incontrarsi autenticamente. E c'è bisogno anche di usufruire di competenze che accompagnino, non dirigano. Il soggetto ha già dentro di sé, ci insegna Socrate, poiché sia per l'ipotesi di Platone, per il fatto che l'uomo avrebbe contemplato le idee nell'iperuraneo prima di nascere, eccetera, eccetera. Oppure, semplicemente, perché abbiamo fiducia nella persona in quanto tale, dicevo, il soggetto ha dentro sé delle risorse, ha dentro di sé una mente, ha dentro di sé tutta una serie di vissuti considerazioni che possono essere aiutate nel loro dispiegarsi e che non richiedono necessariamente che qualcuno dall'alto diriga il soggetto. E' uno dei grandi insegnamenti probabilmente di tutta la filosofia, è quella libertas filosofandi che spesso nel corso dei secoli è stata rivendicata, ma è anche un dovere, oltre che un diritto, del cittadino. Il cittadino non è un suddito che debba semplicemente obbedire, certo deve rispettare le leggi e sappiamo pure quanto Socrate le rispettò fino alle estreme conseguenze, tuttavia il cittadino deve potersi esprimere. Ora, c'è una diffusa necessità di persone, la parte di persone, di avere forme di aiuto per risolvere determinati problemi, ma questo aiuto non deve essere un aiuto direttivo, non si deve andare dal santone che ci risolva i problemi, insomma. Proviamo a allargare lo sguardo a un ambito più ampio, il dibattito pubblico. Non trarrebbe beneficio se il dialogo, lo stile comunicativo tra le persone non fosse un gridare gli uni sugli altri e se quindi ci fosse questa disponibilità all'ascolto e al parlare autentico. Certo che ne gioverebbe, immaginiamoci se fosse basato sul rispetto che è una parola tanto abusata quanto poco magari praticata. Non deve partire da precomprensioni o pregiudizi e qui il professore Cilaci e maestro. Per carità ce l'ha anche insegnato Piaget, esiste una modalità spontanea, tipica, funzionale della mente umana di incastonare i nuovi dati che provengono dall'esterno, dall'esperienza, dall'interazione tra il soggetto e l'ambiente circostante, tale per cui noi ci orientiamo in una lettura del mondo sulla base di, per così dire, tabelle interpretative già date, ma se ci fermassimo a quelle non potremmo crescere, rimarremo in un livello di ignoranza, cioè non conoscenza neppure delle cose, non potremmo neppure ben interpretare. I nostri schemi interpretativi devono man mano potersi adeguare anche ai vari input che vengono dall'esterno. Se noi invece siamo rigidi nei nostri schemi mentali non riusciremo neppure a comprendere. Se noi siamo rigidi nei nostri schemi mentali, saremo mai in grado veramente di comunicare il dibattito pubblico, il dibattito politico di oggi? Quanto è veramente aperto e quanto invece è arroccato su schemi che non sono funzionali? Attenzione, non è che sto invocando forme di trasformismo, sto dicendo che è importante l'apertura mentale fondamentalmente. Il dibattito pubblico trarrebbe beneficio se il dialogo fosse improntato in ultimo alla ricerca della risoluzione dei problemi e non all'autoaffermazione. Immaginiamoci quanti vantaggi otterrebbe la nostra polis, che non è quella della Grecia di qualche millennio fa, ma che è il villaggio globale. Se la comunicazione fosse non propagandistica, ma fosse comunione, comunicazione e comunione, come sono vicine, non solo per assonanza, ma anche come campo semantico, per mettere in comune ciò che c'è da mettere in comune, ciò che ciascuno può dare come contributo personale al dibattito pubblico, alla vita sociale. Nel ventesimo secolo la filosofia ha contribuito in maniera significativa agli sviluppi nell'ambito della psicopatologia. Impiego qui il termine psicopatologia in senso lato, cioè come ambito di ricerca cui afferiscono varie discipline riguardanti i vissuti dell'uomo e quindi psicologia, psicoterapia, psichiatria, neurologia, altre branche della medicina, ma anche le scienze umane, le altre scienze umane, pedagogia, sociologia, appunto filosofia, perché è una storia che ci insegna tanto dell'umanità nel bene e nel male, persino teologia, perché le varie religioni nel momento in cui hanno affrontato il tema di Dio sicuramente sono poste il rapporto tra Dio, l'uomo e quindi la realtà dell'uomo e poi tutta una serie di professioni di cui a breve parleremo. Allora dicevo, tra filosofia e psicopatologia c'è stato un dialogo fecondo nel ventesimo secolo, proprio per comprendere quanto la relazionalità sia significativa. Gilberto Di Petta, psichiatra, ha coniato un termine, la traità, per parlare di quello spazio interpersonale, il tra, che c'è laddove due soggetti in autentica comunicazione mettono in comune qualcosa. Quello spazio, il tra, si riempie dei contenuti dell'uno e dell'altro, ma alla fine, organicisticamente, quello che emerge non è la mera somma delle parti, ma è qualcosa di più grande. E l'esperienza della traità di questo luogo di condivisione profonda permette all'uno e all'altro di crescere. Psichiatra e paziente, terapeuta e paziente, e così via. Armando Rigobello ha insistito molto sul tema dell'autenticità, anche quando nella differenza delle persone è lì che si vede maggiormente l'autenticità. E c'è proprio un testo famoso, anche complicato forse da leggere, per certi aspetti, autenticità nella differenza. Ma il dialogo o è autentico, anche quando si parte da posizioni differenti, altrimenti non è più un dialogo. Poi ci sono i grandi maestri come Buber, Meunier, Ricoeur, che hanno parlato di alcune parole fondamentali, l'io, il tu e il noi. Io non posso avere una esperienza di un altro. Se io ho esperienza dell'altro vuol dire che lo sto oggettificando. Se io invece ho relazione con l'altro, l'altro per me sarà un tu. E l'io e il tu insieme potranno generare il noi, inteso come per esempio comunità, come comunità educante quando parliamo di scuola, di università, come comunità in senso più ampio quando ci poniamo il tema della città e quindi della cittadinanza. Lo Stato, il comune, la provincia non sono cose strane e strane a noi. Siamo noi. Poi abbiamo anche nell'ambito della ricerca del settore più strettamente legato alla psicologia, la psicopatologia, gli Aspers, la Gestalt, nata come psicologia della Gestalt e poi in America sviluppata in forma di psicoterapia della Gestalt che ha riflettuto molto sui vissuti, sullo sfondo dei vissuti personali, Rogers con la sua terapia centrata sulla persona, tutte queste dimensioni di studio di approfondimento anche clinico ma non solo clinico, si sono rese conto di quanto le relazioni umane e il dialogo autentico proprio come aveva insegnato Socrate possono essere terapeutiche nel caso di patologie ma comunque estremamente significative e portatrici di sviluppo laddove non ci sono condizioni strettamente patologiche. Quindi immaginiamo a un livello di dimensione sociale, a un livello di comunità globale, quelle in cui viviamo, se veramente le relazioni fossero autentiche, che grande potenziale ancora avremmo da esprimere. Aachenbach è un po' l'ultimo di questi autori che hanno lanciato alcuni elementi estremamente importanti al riguardo del rapporto tra filosofia e psicopatologia. È considerato un po' il padre della consulenza filosofica, cioè l'impiego pratico della filosofia e del dialogo socratico. La filosofia, cioè, può fornire consulenza a vari livelli, anche a livello politico, anche a livello propagandistico nell'accezione buona del termine, anche a livello di gestione di ambiti sociali, di ambiti associativi e così via. La filosofia con un metodo improntato, un po' quasi allo schema di airetico di Platone e quindi sulla scia, comunque nel solco di quanto aveva insegnato Socrate, può oggi aiutare e facilitare percorsi di confronto. Tutte queste voci hanno portato ad una nuova antropologia, leggo qui, metto un'altra slide di nuovo manualmente, cui hanno contribuito diversi scienziati e filosofi del Novecento, appunto in questo testo di Anna Maria Guido vengono citati Jasper, Husserl, Heidegger, Buber, Binswanger, Marcel, Mounier, i quali hanno considerato l'essere umano come una realtà complessa, mutevole, in continuo divenire, comprensiva di molteplici aspetti, biologico, emozionale, volitivo, cognitivo, spirituale e soprattutto caratterizzato da una coscienza intenzionale, significante, progettuale e imprescindibile dalla dimensione interpersonale, cioè ne consegue che l'uomo è un essere relazionale nella sua genesi biologica e psichica, nella sua costituzione identitaria, nella sua dimensione spirituale, nel suo esistere nel mondo. Allora, dove vogliamo, dove vorrei io arrivare con queste mie considerazioni? Se a livello proprio di costituzione, di discipline, professioni, siamo arrivati a questo sfondo antropologico, sono nate poi delle relazioni d'aiuto, cioè delle professioni che appunto hanno come obiettivo l'aiuto della persona, come faceva Socrate, non dando la soluzione, ma aiutando la persona a tirar fuori da sé le proprie risorse per la risoluzione dei problemi e queste professioni sono varie. Esiste l'orientatore professionale che aiuta il soggetto appunto ad orientarsi tra le varie possibilità formative, lavorative. Esiste il counselor che aiuta la persona a diventare un po' la protagonista del cambiamento che sta vivendo. La consulenza filosofica e anche altre prassi filosofiche che, come dicevo, possono facilitare, lavorando sulle idee, non strettamente su processi psichici, la ricerca di soluzioni, l'individuazione dei problemi, la soluzione degli stessi, ma anche facilitare le forme di concertazione. Esiste il coach che aiuta il soggetto al raggiungimento dei propri obiettivi. Tutte queste vengono esercitate in Italia ai sensi della legge 4 del 2013 che riguarda le professioni non organizzate in ordini professionali. Ora proviamo a immaginare tutti questi apporti estesi non solo a livello di singoli individui che possano beneficiarne, ma immaginiamo tutto questo esteso alla dimensione sociale. Immaginiamo la presenza di tali professioni in vari ambiti. Immaginiamo se operatori di vari contesti, pensiamo nella scuola, pensiamo nelle associazioni di volontariato, pensiamo appunto nell'ambito politico, avessero competenze di questo genere. Immaginiamoci se fosse diffuso uno stile comunicativo realmente socratico, su larga scala. Ebbene a quel punto sicuramente la radice socratico di un dialogo autentico può portare ad un dibattito migliore e a una vera crescita comunitaria in tutti gli ambiti, sia nel confronto politico, sia nel mondo del lavoro, sia nella gestione dei media, sia oggi come oggi magari in ambito sanitario. C'è bisogno di una relazione che viva veramente la prossimità. Recentemente ha detto qualcosa di simile, molto meglio di me sicuramente e con uno sguardo più ampio il professore Meschini dell'Università del Salento. Io mi taccio, credo di aver lanciato un po' di semi per così dire e se non sono stati molto connessi, perdonate, è stata incompetenza mia, ma veramente una possibilità in più per lo sviluppo degli ambiti comunicativi e della dimensione della cittadinanza, la filosofia può darla nel mondo di oggi. Grazie, grazie molte a Stefano. Io approfitto del privilegio di essere il coordinatore di questo seminario e anche il moderatore in questo momento per fare qualche domanda al nostro relatore, che ovviamente vuole essere un po' da affermazioni che io sento fare molto spesso, ovviamente una mia risposta ce l'ho, però vorrei sentire quella di Stefano. C'è spesso l'accusa che la filosofia si voglia occupare di cose che non le competono, no? E che si stia in qualche maniera ammantando di un bel vestito, utilizzando però altri strumenti, quelli della sociologia, della psicologia, eccetera, eccetera. Questa è una prima obiezione, la quale solitamente segue la seconda, e non da parte degli esterni alla filosofia, ma da parte dei filosofi, per dire quella di ricorrere alla filosofia, alla storia, alle pensieri in maniera un po' diretta artistica, cioè prendendo alla bisogna un po' di Ricoeur, un po' di Winswanger, un po' di Husserl, eccetera, eccetera. Insomma, queste sono le solite obiezioni che probabilmente Stefano Marra avrà già ascoltato e alle quali chiedo di rispondere. Poi c'è una seconda considerazione che mi piace fare, perché credo che un momento molto interessante sia stato proprio quello centrato sulla questione della relazione, come diceva Stefano. Beh, noi abbiamo adottato, come voi ricorderete, come motto è quello di Guido Calogero, della scuola dell'uomo, che è anche il filosofo della filosofia del dialogo. Non l'abbiamo fatto certo a caso, specialmente per questa occasione relativa all'educazione civica. E a me piace ricordare, a proposito di Calogero, che proprio nella filosofia del dialogo lui dice una cosa molto importante, dice guardate che mentre la libertà ha a che fare con l'individuo, con ognuno di noi, quando si proclama con forza la libertà di coscienza, senza farsi carico dell'altro, in realtà si sta chiedendo una libertà dal pensiero e non nel pensiero. E anzi, ci dice Calogero, la moralità risiede nel fatto che io riconosco la libertà altrui e che me ne faccio carico. E questo è uno dei punti fondamentali. Ma nel fare questa affermazione, ripasso la palla al professore e leggo anche una prima domanda che è arrivata, in attesa che ne arrivino altri, se ci sarà tempo te ne voglio fare un ulteriore, che è la seguente, nel frattempo te la leggo Stefano. Può esserci traità e autenticità nella comunicazione online. Come si possono definire le conversazioni via video, il rapporto con quelle reali? Molto vicino alla domanda che ti avrei voluto fare io, quindi complimenti ai ragazzi del liceo scientifico del Giorgi Lecce, bravi. Prego Stefano, hai facoltà di rispondere, prego. Bene, allora io partirei da un tentativo di sgombrare il campo da alcuni pregiudizi appunto. Viviamo in un'Italia che ha forse un elevato tasso di litigiosità, forse proprio perché manca un diffuso stile socratico nel dialogo, a tutti i livelli. Di conseguenza a volte si rischia di vedere le professioni, le discipline, gli studi come concorrenti fra di loro. Ma noi dobbiamo cambiare cambiare lo sguardo e appunto provare a attenzionare le cose in maniera più organicistica. Ogni disciplina costituisce un elemento, uno snodo di informazione che può permettere la crescita dell'insieme dell'organismo della comunità umana. Di conseguenza non si porrebbe tanto il problema su appunto una specie di competizione tra professioni, se questa cosa devono farla i filosofi oppure gli psicologi oppure i pedagogisti eccetera eccetera. Anche in ambito strettamente pratico, professionale, io mi immagino nel migliore dei mondi possibili studi associati di persone in cui le varie competenze possano dialogare fra di loro e rispondere ai bisogni concreti delle persone a seconda delle competenze e a seconda soprattutto dei bisogni per partire dalle persone. Di conseguenza quello è un problema che in parte è un falso problema, che forse dipende da un retroterra culturale che insomma potremmo anche lasciarcelo dietro. Ad intra nel contesto filosofico sì, bisogna stare attenti a non usare improvviamente le armi della filosofia. Il punto è divulgare e rendere possibile l'utilizzo di un metodo che è quello filosofico di uno stile mentale prima ancora che comunicativo, che possa essere improntato ad una argomentazione che vada su ciò che è necessario e universale. Mentre invece se io sento un qualsiasi dibattito politico in televisione, di tutto sento parlare tranne che di argomentazioni realmente fondate, no? Si va per slogan oggi come oggi. Viva Dio, esportiamo un pochettino di sano dibattito filosofico in tutti i contesti e questo forse farà bene a tutti, quindi sicuramente serve studiare molto bene rigueur come si deve con un approccio, no? Che la storia della filosofia può permetterci. Lo stesso vale per Aristotele, per Platone, lo stesso può valere per Tommaso d'Aquino piuttosto che per Cartesi e così via. E poi esportiamo una mentalità che è quella appunto di una ricerca di filosofandi, una libertà di filosofandi, scusatemi, basata su una ricerca sincera e rigorosa, perché se estendiamo questo i dibattiti saranno più sinceri anche, perché saranno basati su qualcosa che viene comunicato, saranno basati su argomentazioni razionali, non sugli slogan del momento. Per quanto riguarda la domanda che fanno i ragazzi molto interessante, io nella dispensa messa a disposizione sul gruppo, su Teams, avevo messo anche degli spunti bibliografici che sono soltanto degli spunti. Tra questi ho citato e cito a questo punto un nostro conterraneo, Emanuele Ria di Lecce, che ha pubblicato poco più di una decina di anni fa, credo, quello che suppongo sia il primo testo sul web counseling, intitulato proprio così, il web counseling sottotitolo Internet e la relazione d'aiuto, nel quale si chiedeva proprio tra le varie questioni se fosse possibile un'autentica relazione con chi è dall'altra parte del nostro dispositivo, con chi è connesso con noi. Allora faccio, condivido ecco, la sua conclusione. Se l'operatore, counselor in quel caso, ma qualsiasi altro operatore in ambito professionale, ma chiunque di noi ha delle competenze, competenze non sono da intendersi in senso meramente tecnico, a volte sono un affinamento per così dire, della nostra comunicazione personale, il saper leggere negli occhi dell'altro. Ecco, se noi abbiamo competenze e una autenticità nel nostro porci nei confronti dell'altro, allora potremo anche vivere autenticamente attraverso il web. Però, diceva Emanuele Ria, quello può essere un primo passo, cui deve seguire necessariamente o possibilmente l'incontro vis-a-vis, faccia a faccia, perché esistono vari livelli comunicativi. Quello non verbale o quello paraverbale spesso rimangono filtrati dal monitor e questo impedisce di cogliere tutte le sfumature e l'ampiezza della ricchezza, della portata comunicativa di ciascuno. In fondo siamo mente, lo dicevamo, ma siamo anche corpo e anche quello ha un valore. Lo lascio anche un po' sospeso, quasi perché c'è un aspetto problematico che rimane. Non preclusi, non chiusi, ma neppure ingenui. Molte grazie, molte grazie Stefano. C'è un'altra domanda che vorrei porti, se mi era occasione, con una risposta che deve stare però nel minuto perché il tempo veramente sta volando, può dire che è stata una bella redazione, che è la seguente. La prima è quella della terza eliceo scientifico stampacchia Tricase, che ti chiede se e come è possibile intavolare una comunicazione e un dibattito utile di impronta socratica tra ragazzi facendo meno della mediazione di un professionista. Questa è una bella domanda perché si rivolge poi a una forma di comunicazione spontanea e quindi anche questo è molto interessante. Sulla questione mediologica relativa ai nuovi media eccetera, sorvolerei perché è veramente molto complessa e credo che ci vorrebbe più tempo, però insomma condivido in linea di massima quello che hai detto. Poi c'è la terza G di Cede Giorgi che scrive Galimberti parla del mito della psicoterapia, infatti nella nostra società chiedere aiuto a mettere i propri limiti e quasi essere considerato un tabù e questo ovviamente ostacola il discorso socratico. A cosa crede sia dovuto questo problema e come si può risolvere? E poi un'ultima domanda, ti prego se vuoi di appuntarle perché non sono poche e poi c'è una domanda della nostra Cristina Barbara che saluto l'orizzonte di senso nel quale si vive soprattutto quello della affermazione individuale, tutto e sempre e solo in concorrenza spietata, si dovrebbe quindi cambiare radicalmente abbandonando la esasperata ricerca di affermare se stessi, sembra perciò molto utopistico anche se aspicabile sapere ascoltare l'altro. E vabbè, direi che queste tre domande sono più che sufficienti, mi nego la possibilità di farti la mia. Comincia a rispondere a questa, prego. Allora, parto da quest'ultima, sì, possiamo pure sembrare utopistici, però probabilmente tutti i grandi cambiamenti che ci sono stati, ma anche i piccoli cambiamenti partono con una piccola dose dose di utopia. Pensiamo a quelli politici e sociali già attuati e perché no, perché dovremmo precluderci la possibilità di sognare da un certo punto di vista. Serve una certa dose anche di coraggio, forse anche di incoscienza, ma perché no? Tanto se non ci proviamo di sicuro non raggiungiamo una situazione migliore, no? Non prova già fallito, si diceva un tempo, no? Cosa? Un tempo si diceva chi non prova già fallito. Esattamente. Per quanto riguarda la questione della psicoterapia, bisogna stare attenti a due poli opposti. Da una parte, forse una carenza di informazioni legate al passato e a pregiudizi appunto, no? Su ciò che poteva rappresentare la patologia, il disturbo psichico, la follia, eccetera, eccetera. In passato spesso le persone venivano etichettate. Ora, il dialogo autentico non etichetta alcunché, perché ciascuno è semplicemente un essere umano. In forme di dialogo autentico io non ho paura di avvalermi dell'aiuto di un qualsiasi professionista, che sia l'ortopedico che sia lo psicoterapeuta, da una parte, e quindi è necessaria cultura, informazione prima di tutto, per comprendere che in fondo non c'è assolutamente nulla di cui vergognarsi per qualsiasi patologia possiamo avere, che sia il Covid-19, che sia un tumore o che sia un disturbo psichico pesante, no? Non c'è da vergognarci. Siamo vittime di una situazione, semmai di certo non siamo colpevoli di questo. Certo, con questo non voglio dire che non sono necessarie le precauzioni e ci mancherebbe altro, ma quando siamo colpiti dalla patologia siamo coloro i quali stanno soffrendo la patologia, non c'è niente di cui vergognarsi, da una parte. Dall'altra parte bisogna stare attenti a non clinicizzare qualsiasi aspetto problematica, questione esistenziale che si pone una persona, che non è che il giovane adolescente che si ponga delle domande di senso ha bisogno di un terapeuta che lo curi, sta semplicemente esercitando nella stragrande maggioranza dei casi le sue facoltà. Stai dicendo una cosa molto importante, specialmente di questi tempi e devo dire che qualche tempo fa mi è capitato di fare un seminario e di approfittare di dire questa cosa perché c'è uno strano fenomeno fra i giovani e ne approfitto perché ci stanno ascoltando i docenti, che quello di immedesimarsi in alcune patologie cliniche, di cercare la propria nicchia di patologica clinica quasi a modo di giustificazione di un disagio. Questa è anche una cosa inedita, voi docenti potete farlo con molta facilità, potete tastare questo terreno chiedendo ai vostri studenti. Purtroppo sta diventando un fenomeno molto largo e molto esteso, spero non così radicato, che è una cosa strana perché è come utilizzare in senso patologico la soluzione, quindi è veramente un fenomeno parecchio discutibile. Vi pregherei da insegnanti proprio perché avete delle fasce di età molto particolari di porre a questo problema, Stefano tu l'hai proprio accennato in maniera molto precisa, una particolare attenzione, quindi ti ringrazio per questo assist insomma che mi permette di dare. Senti, un'ultima domanda te la faccio però, mi permetto di farti un'ultimissima domanda che è la seguente, il lavoro del counselor è un lavoro, sì, filosofico, no? È un lavoro che proviene comunque dall'esperienza filosofica che fai conti anche con il presente ovviamente, no? Tesaurizza un poco di quello che è il bagaglio concettuale del imparare a pensare, il pensare, l'imparare a pensare che era un po' il motto kantiano poi fra l'altro, qualcuno l'ha dimenticato, qualche ministro specialmente, e però fa pur parte, rimane sempre parte del concetto di cultura. Proprio ieri mi è capitato di lasciare un'intervista per degli amici della fattoria pugliese diffusa, che è un gruppo molto interessante di nostri ragazzi che lavora con Erasmus Plus, o se volete dirlo in inglese Plus, insomma mi esiste in latino, e proprio su questo ragionavamo, sul fatto che la cultura non abbia necessità di chiamarsi intercultura, la cultura o è già inter e o è già tra oppure non è. E allora un'ultima riflessione che ti chiederei di fare aggiungendo una domanda della nostra amica Nadia Abrahi, e che leggo qui così chiudiamo, quindi chiuderemo con la tua riflessione finale. Nadia ci scrive, la collega Abrahi ci scrive, caro Stefano grazie per la tua bellissima e chiarissima presentazione. Restituire la dignità al mio interlocutore significa riconoscere il valore delle posizioni di cui è portatore. Non si tratta di relativismo. Nel tuo libro Dialogos, tu argomenti parlando del Logos che non si dà indiviso, così che coglierne un frammento può essere determinante per l'esistenza intera. Mi piacerebbe, se ci fossi il tempo, se tu potessi soffermarti su questo aspetto specificamente filosofico ed estremamente affascinante. Allora ti lascio quindi la parola, sei libero di concludere questo seminario, permettetemi soltanto in modo da non riprendere la parola di ricordarvi il prossimo appuntamento che si darà lunedì 15 febbraio, quindi lunedì prossimo con la collega Fiorella Retucci sul Civis nel Medioevo e la sua dimensione universalistica e quindi chiudiamo con la riflessione del professore che ringrazio davvero di cuore per questo suo intervento molto opportuno, molto opportuno e molto ben calibrato rispetto al tema. Grazie Stefano, a te la parola conclusiva, grazie. Allora nel ringraziare anche per queste domande e poi la professoressa Nadia Brahi è sempre troppo buona nei confronti del sottoscritto, mi permetto di rispondere a...